Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Davanti a noi abbiamo in formato digitale il catalogo C14 di Stenom con offerte ordinabili dal 12 al 29 di settembre. Andiamo subito ad aprirlo per scoprire tutte le novità e le super offerte che ci riserva Stenom in questa campagna. Non perderti questa super promozione con una spesa minima di 16,90€ tra i prodotti da pagina 4 a 17 per te la padella Cooking Style, il lusso della semplicità e Cleaning Net, un'innovativa trama a rete che pulisce con delicatezza superfici e stoviglie delicate, tutte e due a soli 11,99€. Andiamo subito a scoprire i prodotti per avere questo set. Il primo è un prodotto per il bucato, vi lascio nelle schede il video dove vi mostro tutti i prodotti che utilizzo per il mio bucato Marchiatis Senom. Daily Wash da un litro e mezzo in offerta a soli 7,50€. È un detersivo bucato bianchi e colorati e abbiamo tre profumazioni diverse. Uno sgrassatore concentrato per stoviglie e superfici, è una formula mangia grasso che scioglie lo sporco facilmente in pochi secondi ed è super concentrato, bastano poche gocce. È un 2 in 1 perché lo possiamo utilizzare come sgrassatore puro o diluito universale per la cucina e anche per lavare le stoviglie a mano. Un litro di prodotto a soli 8,50€ ed elimina anche gli odori più persistenti. Passiamo alle mani con un prodotto della Nina Stenon Family Expert ed è l'Hand Cleaner da 300ml. È un detergente delicato che lascia sulle mani un profumo fresco grazie all'estratto di aloe vera a soli 5,90€. Elimina i cattivi odori ed è perfetto anche da tenere in cucina. Ritornando alla cucina abbiamo in offerta Multi Surface che è un pulitore cucina che aiuta a pulire e sgrassare tutte le superfici lavabili. 500ml a soli 8,50€ e vi consiglio di acquistare insieme a Trigger il nebulizzatore per flacone di ricarica a soli 1,90€. La spazzola multiuso My Brush che pulisce, disincrosta e rimuove lo sporco grazie alla sua formula e grazie alle sue tre diverse setole l'avremo a 9,90€. E passando al forno abbiamo Oven, un pulitore formo con una formula in schiuma che ricopre perfettamente lo sporco e aderisce anche le peretti verticali senza colare. In offerta 8,90€ è ideale per forni, griglie, girarrosti e barbecue. Agisce tra i 2 e i 5 minuti. Possiamo utilizzarlo ad esempio col panno Soft Plus che è un panno in microfibra pulitore cucina a soli 9,90€ ed ha una grande capacità di assorbimento ed è lavabile in lavatrice anche a 60 gradi. Per il nostro frigorifero e freezer abbiamo il pulitore sbrinante Freeze & Freeze, un'azione pulente e sbrinante per assicurare la pulizia di questi due elettrodomestici. Ha una tecnologia anti-odori, anche questo vi consiglio di utilizzarlo insieme a Trigger e lo troveremo in offerta a 9,50€ 500ml. Ritorniamo al bucato e abbiamo una novità in edizione limitata come profumazione, ovvero il Pur Soft, un aborbidente concentrato da un litro nella profumazione pera e gelsomino. È una formula concentrata, infatti bastano solo 20ml. In offerta lancio a soli 7,90€. Continuando con i prodotti per il bucato abbiamo il Pre-Wash, che è uno smacchiatore pre-lavaggio che agisce in 1-2 minuti prima del lavaggio in lavatrice ed è adatto anche per le macchie più ostinate e anche estese grazie allo spruzzo a larga diffusione. 500ml a soli 7,50€ ed è efficace già a 30 gradi. Offerta set per quanto riguarda i Brew Crystal, infatti due li avremo a 20,90€, ogni confezione ha 10 sacchetti e sono cristalli antitarme profumate alla norte di lavanda. È un presidio medico chirurgico. Aquilaun invece è un detersivo esperto lana e delicati, che lava e smacchia con efficacia tessuti e capi delicati come seta, lana, cashmere e lino. Ha un'azione anti-infrettente e protettiva dei tessuti, 350ml a soli 8,90€. Abbiamo il Color to Color, un additivo di lavaggio protezioni colore da un litro che evita la cernita del bucato ed è appunto un additivo per limitare il trasferimento dei codori. A soli 11,50€. Per i capi neri e scuri invece abbiamo il Black Wash, che è un detersivo esperto per il lavaggio specifico dei capi neri e scuri proteggendo i colori. Efficace già a 20 gradi gendigradi, 750ml a soli 8,90€. Passiamo a un prodotto per la disinfezione e abbiamo un'offerta set 1 più 1 gratis, quindi 2 a soli 13€. Sto parlando del dry spray che è da 300ml, è uno spray a secco disinfettante espresso, elimina fino al 99,9% dei batteri e dei funghi in pochi minuti. È un presidio medico chirurgico, non bagna, non macchia, non scolorisce le superfici. Passiamo alle pulizie pesanti con il Fair Place Cleaner, un pulitore caminetti stufe e barbecue, perché elimina fuligine e grasso e pulisce anche i vetri dei caminetti senza lasciare aloni. 500ml a soli 12,90€. Un altro prodotto è l'Active Drain, che è un disgorgante potente per gli scarici con soda caustica da 1 litro. È una formula concentrata che agisce a partire da 5 minuti ed è senza profumo, a 10,50€ per tutti i tubi di scarico. Un super set per quanto riguarda il bagno, infatti 3 prodotti li avremo a soli 19,90€. Il primo prodotto è l'Express Shine da 500ml, che è un pulitore anticalcare superfici bagno. Per questo vi consiglio di acquistare Trigger a parte. Poi abbiamo la Bedroom Sponge, che è una spugna a double fast in microfibra, con una parte aggrattante e una parte in microfibra. E infine abbiamo i Vici Fresh, che sono tavolette Vici 3 in 1. 3 in 1 perché hanno un'azione pulente, extra freschezza e anticalcare. Pulisce e previene la formulazione del calcare. Carpet Cleaner da 500ml, che è un pulitore espresso, tappeti, mochette e tessuti da arreto. Ha una tecnologia 2 in 1, infatti è un pulitore e smacchiatore, perché pulisce e elimina con efficacia le macchie recenti. 500ml a soli 12€. Abbiamo i Blue Drop, neutralizzante odore, alla nota freschezza marina. Bastano pochissime gocce perché è una formula altamente concentrata, a soli 6,90€. Continuiamo con i pavimenti e abbiamo due prodotti in offerta. Il primo è adatto sia per il parquet opaco che per il parquet lucido ed è il parquet cleaner. Deterge e preserva la bellezza del legno. Un litro a soli 11,50€. Mentre ideale per il marmo abbiamo il Sunny Floor. È una formula senza risciacquo a base di ammoniaca per sciogliere anche lo sporco più incrostato. Infatti disincrosta e sgrassa i pavimenti in profondità grazie ai tensioattivi contenuti nella formula. Un litro a soli 9,50€. Per i vetri abbiamo il nostro amato Windows Spray da 400ml. Un pulitore di vetri interni ed esterni che ha una formula speciale con azione a lunga durata. Ritarda la ricomparsa dello sporco quotidiano come polvere calcare. In offerta set insieme al suo panno l'Extra Shine che è un panno anti aloni vetri e superfici pietrate a soli 18,90€. Per spolverare abbiamo il Quick Polish che è un pulitore che elimina polvere protettivo multi superfici. Lascia una pellicola protettiva contro polvere impurante e macchia d'acqua. È una profumazione fresca e floreale agli agrumi frizzanti. 400ml a soli 8,90€. Continuiamo con il make up e passiamo alla linea Flormar. In offerta abbiamo il correttore coprenza perfetta ovvero lo Stay Perfect Concealer che ha una texture liquida, una coprenza piena ed è resistente fino a 12 ore. È idratante, ha una formula non grassa che contiene vitamina E che ha appunto azione idratante, nutriente, lenitive e antiossidante da un applicatore Jumbo per un'applicazione più semplice. 3 colorazioni disponibili, 10ml l'uno a soli 7,90€. Come cipri abbiamo in offerta la Compact Powder che è una formula opacizzante a lunga durata. 3 colorazioni disponibili, 11 grammi di prodotto a 11,50€. Mentre come base abbiamo l'Illuminate Make Up Primer Plus. Un primer illuminante con azione levigante, prolunga la durata del make up nutriendo e idratando la pelle e dona alla pelle un aspetto fresco e impeccabile. 35ml a soli 10,90€. Passiamo agli occhi e come eyeliner abbiamo quelli in penna opachi, Midnight Matte Eyeliner. 4 colorazioni disponibili a soli 8,90€. Come matite abbiamo l'Extreme Tattoo Gel Pencil che sono matite in gel effetto tattoo con colori intensi e ultra pigmentati e non sbavano. Sono waterproof e a lunga durata. Abbiamo 6 colorazioni disponibili a 7,90€. Passiamo alle sopracciglia. Abbiamo l'Ebran Fixator Mascara, un fissatore sopracciglia, un gel invisibile che fissa le sopracciglia e il risultato è a lunga durata. 6,90€. Un altro mascara è il Beak & Bold Waterproof Mascara, appunto un mascara waterproof effetto volume a lunga durata. 14ml a soli 12,50€. Come base ombretto abbiamo il Good Lead Only Eyeshadow Primer per dare un trucco impeccabile, luminoso e lunga durata a 10,50€. Mentre come ombretto abbiamo gli Stilo Occhi. 6 colorazioni disponibili, sono ombretti cremosi per uno sguardo intenso, facili da applicare a 12,50€. Ritornando alle sopracciglia abbiamo le Ultra Thin Brown Pencil, matite e sopracciglia ritraibili con una punta ultra sottile per una definizione perfetta della sopracciglia. 1 a 11,50€, 2 in offerta set a 19,80€, mentre 3 in offerta set a 25,50€. Abbiamo 3 colorazioni disponibili. Passiamo alle labbra e abbiamo in offerta le Silky Matte Liquid Lipstick Rossetto Liquido Effetto Matte. A lunga durata, waterproof e una texture liquida. 6 colorazioni disponibili, a soli 8,50€ l'uno. Per quanto riguarda lo Speciali Mani, abbiamo diverse basi in offerta. Sono tutte da 11ml, adatte a tutte le problematiche delle nostre unghie. A soli 4,50€ l'uno. Passiamo alla linea Chiotis. Abbiamo una novità per quanto riguarda i rituali e arriva il rituale calmante alla lavanda. Di questa linea fa parte il gel doccia da 200ml a 8€. L'esfoliante corpo al sale 190ml a 14,50€. L'olio satinato corpo e capelli secchi 98ml a 11,90€. E infine per il viso e il trattamento nutriente viso da 50ml a 17,90€. Li possiamo comprare anche in offerta set. Ad esempio nel primo set abbiamo il gel doccia più l'olio satinato a 17,50€. Nel secondo il gel doccia e il trattamento nutriente viso a 21,90€. E infine l'ultimo set abbiamo il gel doccia più l'esfoliante corpo al sale a soli 19,50€. Passiamo ad un'effetto esclusiva per te a soli 2,99€ i dischetti struccanti lavabili e riutilizzabili. Potrai avere questi dischetti con una spesa minima di 19,90€ da pagina 59 a 63. Sono sette dischetti struccanti riutilizzabili in fibra di bambù e delicati ed efficaci e sono riutilizzabili per più di 300 volte. Abbiamo della linea alla lavanda la maschera viso in schiuma da 50ml a 9,90€. Oppure l'esfoliante viso 50ml sempre a 9,90€. Per lo struccaggio abbiamo ad esempio lo struccante bifase waterproof per occhi e labbra alla lavanda 100ml a 6,50€. E abbiamo anche l'acqua micellare struccante ideale per viso, occhi e labbra 200ml alla lavanda a 8,50€. L'acqua floreale lenitiva sempre della stessa linea 200ml alla lavanda a 8,90€. E poi passiamo alla linea Leaf Parfait con il fondotinta matte lifting e compattezza. Lifting immediato sulla pelle, rassoda a lunga, opagizza e uniforma all'incarnato. Tre colorazioni disponibili, ideale per tutti i tipi di pelle, a soli 16,50€. E questo è l'ultimo prodotto per avere i dischetti a 2,99€. Ritorniamo ai rituali e abbiamo la linea al limone con l'acqua profumata corpo 98ml a 15,90€. Il gel doccia 200ml a 9,50€. Il gel idratante per il corpo 150ml a 16,90€. Passiamo all'uomo e abbiamo diversi profumi in offerta a 28,90€. Come il Fars Plus da 100ml e sempre da 100ml, il pur lui. Poi abbiamo anche il gel doccia di queste due profumazioni. 200ml a 9,50€. Per quanto riguarda la linea Home sempre per l'uomo, abbiamo la schiuma da barba 150ml a 8,90€. E sempre allo stesso prezzo il trattamento idratante viso uomo 75ml. Poi abbiamo il gel doccia corpo e capelli 200ml a 6,90€. E infine il deodorante 48 ore 100ml a 8,90€. Passiamo ai profumi da donna e abbiamo 4 profumi in offerta a 23,50€ l'uno da 50ml. E sono il Petite Bouquet, il Pur Considence, Rose Power e infine Sweet Folli. Ritorniamo al viso, alla skin care e abbiamo la linea Energy Peps con diversi prodotti in offerta. Come ad esempio il trattamento giorno e il trattamento notte da 50ml, l'uno a 29,50€. Il contorno occhi 15ml a 21,50€. E poi passiamo alla linea alla rosa assoluta con le sublimatore essential 30ml a 18,50€. E le creme essentie al 50ml a 44,90€. Passiamo alla linea Genes Revele. Abbiamo il contorno occhi 15ml a 18,50€. Mentre le creme da notte e da giorno da 50ml, l'uno a 23,50€. Continuiamo con la linea di Dottor Pierricot con una super novità in offerta all'accio. E del latte struccante micellare 2 in 1, perché anche tonico viso e occhi ha i probiotici più idrolato di rosa bio. 195ml a soli 10,50€. Del trattamento antimacchia abbiamo il siero da 30ml a 37,50€. La crema nutri riequilibrante 40ml a 32,50€. Passiamo alla rigna Rughe profonde con gli acidi ialuronici e abbiamo il trattamento antirughe barriere antistress multiazione. Sono 4 ampolle da 10ml a 44,90€. Della linea Rifting rassodante abbiamo la laschera Lifting 50ml a 19,50€. E il contorno occhi da 15ml a 23,90€. Di questa linea abbiamo anche il siero da 30ml a 44,90€. E la crema 40ml a 39,90€. Passiamo alla linea Trattamento Rigenerante Notte. Abbiamo la maschera Crema Notte Rigenerante Detossificante Rilassante 50ml a 44,90€. E la lozione sfogliante 125ml agli alfa idrossidagidi a 23,90€. Continuiamo con i trattamenti corpi della linea Dottor Pierricot. Abbiamo il Latte Corpo 3 in 1, idratazione 24 ore, levicatezza e antirallassamento. 195 ml a soli 13,50€. E per quanto riguarda il make-up viso abbiamo due prodotti. Il primo è la base levigante 2 in 1, viso e palpebre 15ml a 18,90€. E l'antiocchiai a correttore levigante 10ml. Una colorazione disponibile a soli 15,95€. All'interno è l'acido lianuronico e le scine di ipocastano. Passiamo alla linea Stenon Family Expert. E abbiamo in offerta diversi prodotti per quanto riguarda le mani. La prima è la Hydra Hand 50ml per una crema idratante e mani secche, 8€. Poi abbiamo l'Hand Gel che è il gel detergente e mani senza risciacquo, 50ml a 5,50€. E poi abbiamo il Refill del Land Cleaner che vi ho mostrato nelle prime pagine del catalogo. 600ml, ricarica due volte il tuo flacone a 10,50€. Per quanto riguarda i piedi abbiamo in offerta la promozione 1 più 1 gratis di Mace Deo. Due confizioni di antitraspirante pieni 24 ore le pagheremo solo 12,50€. Di questa linea abbiamo anche il Fit Esfoliation da 75ml, un esfoliante per i piedi, rucosità, piedi secchi e molto secchi a 11,50€. E sempre allo stesso prezzo abbiamo la Fit Repair che è una crema nutriente riparatrice per piedi secchi, talloni danneggiati e scripolati. L'ultimo prodotto è il gel freschezza gambe e piedi stanchi, il Kulapid, 200ml, regala una sensazione di comfort e reggerezza immediata. È un gel fresco che non appiccica a 7,90€. Per quanto riguarda i detergenti intimi li abbiamo in offerta a soli 8,50€ e sono da 200ml di tre tipologie diverse. Passiamo ai capelli e abbiamo il Repair Shampoo che è uno shampoo nutri riparatore per capelli secchi e rovinati al burro di karité, 200ml a 10€. Mentre i Family Shampoo che li possiamo scegliere alla fragranza di mandorle dolci o alla fragranza all'avena, 400ml a soli 8,50€ per tutti i tipi di capelli. Passando al corpo abbiamo gli Soft Shower che sono gel doccia corpo e viso in due profumazioni disponibili, 740ml a 18€. Vi consiglio di acquistare My Pump che è la pampetta aerogratrice a 1,90€. Per le labbra abbiamo le Sweet Lip che è un balsamo labbra testato dermatologicamente, formulata, arricchito con burro di karité, morbido, idratante e protettivo a soli 4,50€. L'Orpulpous è la nostra cremona ricca e nutriente nella profumazione pomegrate. Da 300ml la pagheremo solo 15,50€. Per quanto riguarda una protezione e delicatezza abbiamo due deodoranti in offerta. Il primo è il Deo Soft 50ml che è uno deodorante antitraspirante e morbidezza, anti-alone, roll-on, 6,50€. Mentre il Deo Soft Spray è appunto a spray, un deodorante 48 ore anti-alone, 100ml a 7,50€. E infine chiudiamo il catalogo con una super promozione su un prodotto molto valido della linea Stenum, ovvero il Tri-Heat, che è un pulitore ultra concentrato super potente da un litro. Ha due azioni in uno perché è un detergente per le pulizie pesanti sia all'interno che all'esterno della nostra casa, oppure come anche additivo di lavaggio per tessuti resistenti. A soli 7,50€. Vi ricordo, se volete diventare Stenum Smile e avere uno sconto su tutti i prodotti del 18%, basta andare qua sotto nell'info box. Troverete il link Diventa Smile, compilate i vostri dati e nel campo presentatrice che vi presenta potete inserire il mio codice, in modo che vi posso seguire in questa nuova avventura. Potete chiedermi qualsiasi cosa qua sotto nei commenti oppure in direct sui miei social, ovvero Facebook, Instagram e TikTok. Vi aspetto anche lì, anche di questi avete i link qua sotto nell'info box. Vi ricordo anche, se non lo siete ancora, di iscrivervi al canale e di azionare la campanella così da non perdere nessuno dei miei video. E se questo video vi è piaciuto e volete altri video dove sfogliamo insieme i cataloghi Stenum, basta lasciare un bel pollice in su. Vi mando un grande bacio e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!